Salve, salve da Marco Calabro per conto di Alleanza Mobiliere, ci troviamo oggi a Roma, siamo a Casa Idea, quello che stavamo vedendo è lo stand di Frattali, Frattali Arredamenti è un nome storico a Roma nell'arredamento e vediamo che ha oggi presentato qui a Casa Idea 2019 lo stand Cosnidero che è un nome presente nel settore dell'arredamento da tantissimi anni che abbiamo avuto tantissime volte occasione di visitare, facciamo un escursus molto veloce all'interno dello stand Snidero, qua stiamo parlando per esempio di un prodotto dove è inequivocabile la firma Pininfarina, non mi vado a soffermare sui singoli modelli, non sto facendo quindi una specifica dei singoli prodotti, sto semplicemente visitando questo stand che sta combinando il binomio Frattali in Via Aurelia che è un nome storico dell'arredamento italiano con questo brand italiano Snidero che è un brand che ormai dal 1946 è presente sul mercato, quindi un nome di riferimento che già negli anni 80 praticamente con la collezione idea di Snidero creò questo abbinamento con forse la più importante delle firme dello stile italiano nel design che è quella di Pininfarina e ricordiamoci quando nacque l'idea fu una proposta innovativa nell'ambito dell'arredamento con le gole, cioè con queste ante che non avevano la cucina e stiamo parlando praticamente a cavallo degli anni 70 con 80, insomma inizio degli anni 80. Vediamo che ancora oggi Snidero ci riesce a proporre, lo vediamo così come ce la sta proponendo Frattali che è sempre stato estremamente attento al design, alla componentistica del prodotto e vediamo come ci sta proponendo un argomento, una proposta che è sempre una proposta attuale. Frattali è una delle persone che io conosco che da sempre ha ritenuto che l'arredamento non si facesse solamente con l'occupazione degli spazi ma anche con l'utilizzo dello spazio all'interno dell'arredamento, cioè per lui l'arredamento è anche la non presenza dell'arredamento in un determinato spazio, quindi soluzioni arredative che siano comunque assolutamente differenti dal normale. In questo senso l'ho trovato sempre uno dei mobilieri straordinari d'Italia. Abbiamo visitato lo Snidero a Roma a Casadea 2019 con l'amico Frattali. Grazie sempre per ascoltare i video di Alleanza Mobiliari ed arrivederci al prossimo video. Grazie a tutti.